Buonasera, buonasera, è quella Kelly Minogue e Miss Pidgey! Mi spingi! Mi fai quel commento che hai fatto quando sei arrivata oggi? E lì in strada? Allora, ho detto... Mi si è rotta la zorniera! Io gli ho detto, non sei l'unica, siamo solo agli inizi! Prendi la scopa veloce! Che cosa ne so? Ho fatto la parrucca! Madonna, avete fatto un barbecue qua? Si! Allora, presentate voi la vostra concorrente! Allora, mentre la Kelly si aprirà a pulire, io direi che presentiamo la nostra seconda, Virginia Wolf, favolosa! Giabriaca, dici! Toglietenele la bibita e datela una grazia! Io gli dico che stasera! Alle nove e mezza pronte! Alle nove e mezza sbronze! E io si! Tranquilla! Virginia Wolf! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.